Franco Tommarelli, artista a Terramano, la sua città le rende onore. Finalmente questa grande mostra, è una mostra già presentata in altre città italiane, adesso qui a Terramo, e sono onorato di presentarla. Ci sono quattro temi in questa totale di mostra, sul risorgimento, sulla ritrattistica, sull'agripastorale e sull'arte sacra. È una mostra molto importante, ci sono anni di lavoro, tanti anni di lavoro, ma io dipingo da oltre 60 anni. Ho dovuto per fare questa mostra recuperare delle tele che avevo presso amici, presso conoscente, perché è una retrospettiva, non è una antologica. Sono contento, ringrazio le autorità che mi hanno aiutato, in modo particolare Caterina, la nostra Caterina, Provisiero, poi ringrazio i sindicati, ringrazio il Dodo di Sabatino, e ringrazio i tanti amici, i tanti, i tanti amici che si sono messi a disposizione, perché da solo non si fa niente. Ma Franco Tommarelli, fino a quando dipincerà? Io mi auguro almeno 10 anni ancora e poi basta. L'associazione Star Art ha voluto una mostra tutta dedicata a Franco Tommarelli, un grande artista terramano che deve essere valorizzato. Lui ci ha tenuto molto a fare questa mostra nella sua città di Teramo, in particolare con il quadro di San Berardo, protettore della città di Teramo e della Madonna delle Grazie. Franco Tommarelli si è contraddistinto in questi ultimi anni della sua attività artistica per i suoi colori vibranti, forti, intensi, che caratterizzano in qualche modo la sua produzione. Grazie. 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 Grazie a tutti.